Il giardino dove un tempo giocavano i bambini è diventato un tappeto di rifiuti, le aule, territorio in contrastato di ladri e vandali. A Palermo, in via Principe di Scordia, nel quartiere Borgo Vecchio, dove per i ragazzi le alternative alla strada sono ancora poche, quella che fu la scuola Parisi versa nel più completo abbandono. Tanto che adesso alcune ollusi e associazioni hanno costituito il comitato Borgo Vecchio per chiedere al comune la riapertura ed assegnazione della scuola per svolgere attività educative e ludiche per bambini ed adolescenti. Ci sono stati quattro furti, si sono portate tutte le porte, tutti i rubinetti, il vandalismo che c'era, c'era lavoro fatto dai bambini da 28 anni, l'hanno sbantellato tutto, ora si aspetta, ci sono più di mille bottiglie all'interno. Ci sembra abbastanza assurdo e paradossale che in un quartiere come Borgo Vecchio, in cui c'è una grandissima carenza di servizi educativi, ci sia un posto che un tempo era destinato all'infanzia e come asilo che si è chiuso, quindi insieme agli abitanti stiamo chiedendo la riapertura di questo posto. Un simbolo del futuro trasformato è un emblema del degrado, la struttura ha chiuso nel 2010 per lavori di manutenzione. Bisognava smantellare il pavimento che conteneva mianto, sostituire serbatoi d'acqua, mettere a norma gli impianti e ristrutturare i locali. I lavori sono durati un paio di mesi ma la ristrutturazione non è mai partita e la scuola non ha più riaperto. Vuole essere nient'altro che una sorta di denuncia dell'assenza delle istituzioni che risultano essere sempre più sorde rispetto a quelle che sono le esigenze delle famiglie e dei bambini che abitano un quartiere popolare. Il comitato Borgo Vecchio ha dato il via ad una raccolta firme che verranno presentate insieme alla richiesta di assegnazione. Le adesioni già pervenute sono quasi mille. Sono piccoli semi e piccoli segnali per un cambiamento, qualcosa si può cambiare, qualcosa può realizzarsi anche attraverso questo.